Il 2023 è l'anno di debutto per l'Arezzo Science Lab, un nuovo progetto organizzato dalla Fondazione Guido d'Arezzo e dall'Associazione Culturale Lab, in collaborazione con la libreria La Feltrinelli Point. La Fondazione Guido d'Arezzo è indiscutibilmente la principale istituzione culturale della città, ma ha il dovere, e lo fa bene, di interfacciarsi con tutto il mondo della cultura retina. Quando abbiamo cartelloni di livello come questo è giusto collaborare. Dal 4 febbraio si parte con un cartellone di spettacoli teatrali a tema scientifico, dove ospite di rilievo nazionale ed internazionale nei loro ambiti di ricerca porteranno il loro sapere sul palco, presentando con la formula di monologhi teatrali delle lezioni su argomenti di spesso difficile approccio, come la fisica, la matematica, la botanica e l'architettura. Inizieremo subito con il botto, come si suol dire, perché avremo Pier Giorgio Di Freddi, uno dei grandi divulgatori scientifici e intellettuali del nostro tempo, e poi continueremo con tutte eccellenze italiane a livello internazionale. Avremo per la matematica Paolo Zellini, per la fisica Gabriella Grayson, di nuovo per la fisica e astrofisica Guido Tonelli, per il mondo della botanica e delle neuroscienze vegetali Stefano Mancuso, e Odifreddi interverrà sul tema dell'intelligenza artificiale, poi avremo anche uno special event che riveleremo il giorno dell'inizio del festival, il 4 febbraio, ore 21, al Teatro Petrarca con Pier Giorgio Di Freddi. Si esce da questi spettacoli non solo divertendosi, ma portandosi a casa qualche conoscenza in più, qualche dubbio in più, e probabilmente poi il confronto su questi temi continua in famiglia, incuriosisce e porta ad approfondire cose estremamente interessanti.